Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Trascrivercio30 Ragazzi, ci sono tante cose che mi è mancata di YouTube e FIFA ragazzi, la carriera del 3 con Manchester Siamo rimasti indiettissimi, l'unica cosa che mi ricordo è che siamo secondi in classifica A quello, bene o male, secondo classificato tra i marcatori della Premier League In più, Smalling è espulso per non so quante giornate, siamo rimasti indietro con marzo e non va bene ragazzi Mi sa che nei prossimi due giorni o tre, dopo continuerò a portare la carriera natale fino all'aprile, poi non lo so E niente ragazzi, siamo ancora a marzo, utili le due partite di marzo, prima contro la Sox City e poi l'altra, si fa vedere Iniziamo la partita Ok, primo tempo, a noi No, 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 ti prego Già iniziamo male, non va bene, per niente Occhio pastore, oddio pastore Tutto solo è quello Io me lo scommettevo, guarda, ci mettevano la mano sul fuoco che segnavano C'è una difesa completamente assente, 1-0, ma tu guarda Ha dimostrato senso della posizione, riflessi fuori dal comune David Silva Occhio alcuna a Guero Mendy Occhio pastore Primissimo gol di Xavi e pastore, ragazzi, applauso Grande, Xavi e pastore Ragazzi, a due minuti di cuore del primo tempo 1-1 e sento la vittoria Finito il primo tempo, ragazzi, sull'1-1 Adesso, ragazzi, dritti di spogliatoio E ricominciamo il secondo tempo Con una grinta più grande Inizia il secondo tempo, ragazzi Fra Stock City e Manchester City E' Bernardo, Bernardo Passaggio circolo Occhio al tiro della bandierina Possono dunque ripartire Oddio tutto solo 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 Sane Madonna Occhio, ragazzi, Kai Walker Che vuole il vantaggio Bernardo Silva Del Silva Che cos'è? Che cos'è questo tino mediocre? Giocchiamocela Ma dai! Manco il contenimento palla c'è Ragazzi, finisce la partita sull'1-1 Ragazzi, questa partita Diciamo, è stata una grande impresa Il primo tempo Ma il secondo Ragazzi, poco lucidi Davvero, ragazzi, poco lucidi Speriamo che la seconda partita Vada meglio Inizia la partita, ragazzi I mangi sensitico della Brickton Ma attenzione, ragazzi Gol del vantaggio Secondo Lodi Pastore Ma non vai, ragazzi Già andiamo bene Dai, vinciamo la partita No, è gol Gol di golai Non autogol Una zera E buonanotte Buonanotte Come si fa da una zera Da 1 a 1 No, il frattore è fuorigioco Tu guarda Ma che lanza di passaggio è questo? Finito in tempo, ragazzi 1 a 1 Ragazzi, non sta andando per niente bene Inizio secondo tempo, ragazzi Risultato 1 a 1 No, no, aspetta Non perderla Non perde la palla Infatti Non la devi perdere Occhio Attenzione Attenzione Oddio 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 No, no, no Ma ti prego Io Aspetta Come fai il gioco? Cioè Mandatemi il replay Datemi quel dannato replay Occhio No Guarda Aspetta No Occhio Aguero 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 Non fare cazzare Non fare cazzare Dio Oddio Ho sbagliato No, no Aspetta Pendi 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 Dai Che cavolo Dai Sì Occhio Cerca il traversone Vediamo se riesce a liberarsi per il tiro Ha sui piedi il pallone del vantaggio Veltman Occhio cerca l'area di rigore Azione interrotta Palla in out Sarà pallo laterale Veltman Siamo entrati negli ultimi 8 minuti di gara No, 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 no Ti pego No, 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 no Oddio Ti pego Altri 120 secondi da giocare Non si accontentano al pareggio Adesso vogliono vincere la partita Palla vacanza Ragazzi Finisce la partita Ragazzi 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 Io Non so cosa dire Ma secondo me Ci sta Ragazzi Il video si comunque De qua ragazzi Spero Non dico Piaciuto del tutto Però spero Che mi sia piaciuto E Iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto Mettete like Commentate Qui sotto nel video E niente ragazzi Ci vediamo la prossima puntata di FIFA Ragazzi Andiamo con Manchester Ragazzi Stavolta ragazzi Crediamoci Portiamo i Manchester Le stelle Un video Scrivetevi al canale